The Colors, un ragazzo, una ragazza e la ragazza, quella che conta, è qui con noi in studio perché adesso è il momento della Milano che conta. Buongiorno Viola, la nostra bionda che conta. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Milano si conta, si contano cose in giro per Milano, abbiamo contato di tutto. Allora, per il momento abbiamo contato i ristoranti, prima puntata era sui ristoranti, poi le vedovelle, le metro. Le metro e oggi ci rimaniamo comunque un po' in tema di trasporti perché da sottoterra ci trasportiamo in superficie, però con i tram e i binari. Cosa hai contato? Allora, quante fermate di tram ci sono, che sono molte di più rispetto alle fermate della metro che erano 121, mentre quelle di tram sono 686. 686 fermate in cui rollare perché sta arrivando in ritardo il tram. Esatto. Quindi, insomma, luoghi in cui potete sbizzarrirvi. Tra l'altro, 686 fermate e 17 linee di tram. 17 linee di tram? Esatto. Che sfiga, 17. Eh sì, però i numeri vanno dall'1 al 33. Ok. Questo tra l'altro me l'avevi insegnato te. Sì, che sono i tram che si definiscono al maschile, ricordiamocelo. Sì. Che non si dice la 27, si dice il 27. Ok, mi raccomando. Giusto, giusto, giusto. Qui si capisce se uno è di Milano o no. È vero. È vero, 6 di Milano, sì. 6 di Milano, sì, dice il maschile tram. Esatto. E quindi quanti sono, hai detto, le fermate? 686. Ok, per quante linee? 17. 17. Ok. Per 170 chilometri totali di... 170 chilometri? Sì. Credo sia più o meno la distanza tra la periferia sud di Milano e la prima barriera di Bologna, più o meno. Ah, è tanto. Quindi possiamo arrivare quasi a Bologna o in tram. Se li mettiamo tutti in fila, possiamo... Immagina fare tutto quel viaggio in tram. Con 17 cambi, perché facciamo tutte 17 le linee che arrivano fino a là. È vero, è vero. No, no, vabbè. E tra l'altro ho trovato che poi... Cioè, ho trovato. Il tram è molto più vecchio rispetto alla metro. Beh, sì, grazie. Vabbè, no. Vabbè, io ho restato tutte queste cose non le... Ah, ok. Cioè, non le avevo mai cercate. Va bene, oh, che stupire. Quindi stupitevi insieme a Viola. Vabbè, non vengo più, davvero. No, e quindi cosa hai scoperto? Sono più vecchi perché? Quando sono così. Ma, allora, il primo 1876, mentre la metro è già nella seconda metà del Novecento. Sì, nel 1964, la linea rossa. 1876. Quasi cento anni di differenza. Sì. No, niente male. Che linea era? Sappiamo che linea era? No, no, no. Sai che credo che la prima linea di tram a Milano fosse quella che andava al cimitero. Al monumentale? Sì, credo di sì. Perché venivano utilizzati i carri per portare le barri. E da dove partiva? Da, credo, zona... Non ti dico Piazza Duomo, ma più o meno zona centrale. Ah, dal centro. Sì, sì, sì. Credo, adesso ho letto qualcosa. Però, insomma, più o meno quella roba lì. Però, beh, non erano sicuramente i tram di oggi, nel 1700. No, assolutamente no. Trinati dai cavalli. Non è una battuta. No, no, è vero, è vero, è vero. Questo l'avevo letto anche io, sì, sì, è vero. E poi ho trovato che i tram, quelli più vecchi, quelli della serie 1500, mi pare. Sì, i cavalli. Tra l'altro si possono trovare non solo in Italia, ma vengono usati, vabbè, famosissimo in Portogallo, a Lisbona, che c'è il tram in Salito. Ma anche a San Francisco in America. San Francisco. Sì, lo utilizzano anche... Eh, questo non lo sapevo. Linea F, credo sia. Linea F. Sapevo di Lisbona e di Porto, che lì è molto popolare. Ma quella, la cosa particolare, giustamente, ce lo ricordi anche tu, Viola, è che quelli di San Francisco, sulla linea F, sono proprio dei tram di Milano corretti per lo scartamento di San Francisco. Sì, sì, sì. Sono quelli lì. Beh, dai. E pensa che... Sei mai stata a San Francisco? No, però sono stata a Lisbona. Ok. Lisbona c'era scritto dentro non parlare del conducente in italiano? Oddio, non ci ho fatto caso perché non ci sono salito. Lo ho visto solo da fuori. Eh, invece, a San Francisco la cosa divertente è che tutta la segnaletica all'interno del vagone, diciamo, è ancora quella originale italiana. È bellissimo. Quindi c'è non sputare dal finestrino, non parlare del conducente. Ah, è vero, è vero. Sì, sì, ho visto anche quello. Literare il biglietto prima di sedersi. Sì, sì, sì. La prendesi in contraposizione poi con quello che succede lì perché in realtà il biglietto lo fai prima, c'è tutto diverso. Però hanno lasciato, diciamo... Eh sì. Bello. Bello il tram, eh? Bellissimo. Ma tra l'altro poi quei tram li vengono utilizzati anche per fare diverse cose, non solo trasporto pubblico, tipo atmosfera, quello che organizza le cene, che si vede passare dentro tutti i tavolini, carino. Si chiama ristorante. Quella cosa che organizza le cene si chiama ristorante in italiano. Ok, ma si chiama... Ma vabbè, vabbè. È un tram che organizza le cene. È un tram ristorante. Tram ristorante. Ok. E poi anche quelle che si noleggia per fare le feste private. Ok, l'hai mai fatta una festa sul tram? No, no, perché mi sa che costa tanto tanto. Ma scusa, abbiamo trovato. Per la laurea. Diciamo, raccontiamo questo backstage. Ieri c'è stata una riunione di redazione importantissima su che cosa fare per la laurea di Viola, che avverrà intorno a luglio, forse. Si spera. Sempre se si comincia a scrivere questa benedetta tesi. Ma il problema qual era? Non tanto appunto la tesi, la stampa, gli problemi erano due. Il vestito e poi il luogo dove fare la festa, giusto? Va bene. Senti, ti saluto. Andiamo con una canzone? Ciao. No, rimani qui con noi, però, dopo la canzone che dobbiamo andare a parlare di una cosa. Anna Oxa con un'emozione da poco. Alle 8.20 qui su Cristal Radio, Good Morning Milano non è un'emozione da poco, quella che proviamo in questi giorni per Viola. Perché, Viola? Dai, diciamolo in diretta. No, perché è la mia ultima settimana qua a Good Morning Milano. Ho finito di lavorare qua. Eh sì, sì, sì. Ha finito il suo tirocinio qui a Good Morning Milano e quindi, insomma, ci mancherà sicuramente tanto. in questa settimana stava facendo il passaggio di consegna alla nuova producer Elisa. A Elisa, sì. Ecco, com'è, com'è? Tanto non ci ascolta. È molto brava. Tanto non ci ascolta, vuoi dirlo se non è brava. No, 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 è molto brava. Tanto ormai tre mesi di mantenercela comunque, anche se, cioè... Ci sta guardando dall'altra parte del vetro. Ti ha minacciato, eh. Ci sta guardando dall'altra parte del vetro. No, è brava, è brava. È brava. Com'è stato questi tre mesi? Com'è vivere la radio? Bello, bellissimo. Non pensavo perché all'inizio la mia passione non era la radio. Non conoscevo per niente questo mondo. Eppure ho scoperto che mi piace, mi piacerebbe continuare. Molto interessante e divertente soprattutto. Bene, poi hai avuto dei grandi feedback del tuo anche essere appunto una donna che conta. Soprattutto del fatto di tenere le mani sul tavolo, giusto? Sì, è vero. Anzi, ringrazio mia nonna perché mi ha detto brava, sei brava, parlare complimenti, ma è brutto se ti tieni le mani sotto il tavolo. tienile bene sul tavolo, fai vedere postura dritta. Ieri sera me l'ha detto brava, bello tutto, però non ti posso vedere. E quindi diciamo che appunto nell'ultima settimana di stage tu finirai venerdì, ma oggi era l'ultimo appuntamento con la Milano che conta quindi per quello ti ho voluto tenere qui in studio con noi. Ringraziamo allora anche la nonna, come si chiama la nonna? Carla. Ringraziamo la nonna Carla, anche mia nonna si chiama Carla. Ringraziamo le nonne Carla, ringraziamo la nonna Carla anche per i consigli di styling, di standing, che dà alla bravissima Viola. Viola, noi ti auguriamo veramente il meglio di tutto quello che potrà succedere da adesso in avanti, ti auguriamo anche di riuscire a scrivere finalmente Statesi così almeno ce la facciamo. Nel senso siamo tutti con te, tutta Crystal Radio è con te. Grazie, vi ringrazio tantissimo davvero è stata un'opportunità molto bella. E insomma, così succede ogni tre mesi voi non sapete magari se ci seguite sì, sapete che insomma Crystal Radio Good Morning Milano soprattutto è un progetto anche di formazione ed educazione noi facciamo questa missione proprio educativa verso queste ragazze e questi ragazzi che vengono a fare un tirocinio curriculare un tirocinio che loro sono praticamente costretti a fare dall'università cerchiamo almeno di farglielo fare bene cioè cerchiamo almeno di fargli passare bene questi tre mesi qui in studio come anche appunto in questo momento Elisa che inizierà ci ha iniziato già questa settimana poi la settimana prossima sarà da sola a produrre insieme a me questo programma Maria che invece è in regia che anche lei è una tirocinante dello Yulm invece lei fa la Yulm tu invece fai la statale insomma è anche bello vedere queste giovani menti che invece di fuggire vengono qui e anzi la cosa bella è quanto mi insegnate anche a me quanto imparo anch'io anzi non divento non invecchio mai nonostante io voglia fare l'Arlem Shake voi non me lo proibite andate a vedere su Google cos'è l'Arlem Shake se non lo sapete nonostante non sia proprio al passo con gli ultimi trend di TikTok o di Instagram però voi mi tenete al passo con tutto quello che è il vostro mondo e soprattutto una generazione che troppo spesso additiamo per essere pigra per non avere voglia di fare cose invece vi assicuro comunque tre mesi per svegliarsi tutte le mattine alle sei essere qua alle sette far andare la baracca fino alle nove in diretta e poi produrre e poi cercare gli ospiti i pomeriggi a rispondere ai vari ospiti insomma a trovarne e non so quanti di noi alla loro età avrebbero fatto la stessa cosa lo so sì noi alla tua età saltavano i fissi per il lungo va bene sì va bene saltateli e finiteci dentro in quei fossi va bene Viola grazie davvero per tutto quello che hai fatto grazie a te e andiamo avanti con la musica loro suono i Maleskin con una canzone proprio dedicata a Viola perché parla di supermodel parlava di te mi sembra io proprio proprio te sì sì come no andiamo ciao ciao